Sono Alessandra Brogliatto, componente del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio, nominata per Conf Cooperative Piemonte Nord, associazione di rappresentanza delle imprese cooperative. Sono anche componente della Commissione Nazionale Dirigenti Cooperatrici. L'impresa cooperativa è un'impresa con forma societaria complessa che deve rispondere a principi, a valori e normative specifiche ed è molto impegnativo anche per i soci e le socie che intendono costituirle. Per questo motivo, come Comitato imprenditoria femminile, abbiamo avviato un progetto che abbiamo chiamato Impresa Informata, in collaborazione con lo sportello Creazione Nuove Imprese della Camera di Commercio, con l'intento proprio di mettere a sistema le competenze, le conoscenze di tutte le associazioni di categoria rappresentate all'interno del Comitato, che possono così erogare gratuitamente della consulenza e del monitoraggio gratuito. In particolare c'è un interesse anche a sviluppare e a sostenere imprenditorialità cooperativa, con particolare attenzione anche all'impresa sociale e all'agricoltura sociale.